La nuova linea Calipnei Lika di Ikea promette di rivoluzionare l'aspetto della vostra camera da letto con colori brillanti e design estrosi. La collezione presenta opzioni come tende a due teli, copri piumini e cuscini colorati per luminosità e funzionalità. I prodotti Calipnei Lika sono realizzati in cotone e viscosa di alta qualità, garantendo un sonno tranquillo e riposante. Il design unico e i colori vivaci di questa linea possono essere...